Un saluto a voi tutti, bentrovati, cominciamo questo TG dalle buone notizie, cioè dai neonati, perché è arrivato come sempre, puntuale come ogni primo di gennaio, il bollettino relativo alle cicogne che hanno volato sugli ospedali facenti capo all'azienda di Varese, all'azienda di Circolo. Gabriele è il nome del primo neonato del 2020, è venuto alla luce alle 3.42 del mattino in quel di Tradatta, all'ospedale Galmarini, poche ore prima al ponte, l'ultimo vagito del 2019, questi appunto i primi dati del documento che riassume e registra i numeri relativi alle nascite, numeri che rispetto al 2018 non fanno grande differenza. In tutto i neonati, nell'arco dell'anno appena concluso, sono 3.915, 2.800 dei quali solo all'ospedale del Ponte, un migliaio tra il Galmarini di Tradatta e il Luvini di Cittilio. Più nel dettaglio, 1.988 i maschietti, 1.927 le femminucce, i piccoli stranieri sono 565. E con l'inizio del nuovo anno sono arrivati anche gli auguri del Presidente della Regione, Attilio Fontana. Molto ottimismo, grande orgoglio lombardo e all'orizzonte la sfida finale sul fronte dell'autonomia. Un 2020 da vivere con ottimismo, laboriosità, spirito lombardo. Il Governatore Fontana si augura che il nuovo anno cacci via le nubi di incertezza che affliggono il sistema paese e si affida all'autorevole sponda del Capo dello Stato affinché la riforma autonomistica riprenda slancio e trovi finalmente applicazione. Io credo che sia stato un anno importante per la nostra regione, per la nostra attività, ma credo che il 2020 lo sarà ancora di più. Abbiamo sicuramente tanti progetti che stiamo realizzando e il 2020 sarà l'anno durante il quale alcuni di questi troveranno concretizzazione. Credo che dovremo continuare ad essere lombardi in questo 2020 perché l'essere lombardi è sicuramente il valore aggiunto che dà a questa grande regione qualcosa di più rispetto al nostro paese. Se siamo riusciti ad essere quello che siamo, lo dobbiamo sostanzialmente alla nostra concretezza, alla nostra voglia di fare, alla nostra mancanza di paura ad affrontare i problemi nei momenti belli e anche nei momenti difficili. Continuate ad essere lombardi anche nel 2020 e sicuramente sarà un anno pieno di soddisfazioni e di gioia per tutti. Grazie e tanti cari, sinceri auguri a tutti. Sfide per il nuovo anno, ma anche bilancio conclusivo per il 2019 in un anno che per Gallarate è stato veramente difficile, spinoso, controverso e che il sindaco Cassani ha voluto raccontare così. Tempo di buoni propositi, anche a Gallarate, dove l'amministrazione Cassani guarda l'anno nuovo con ottimismo e voglia di fare. Dopo un 2019 difficile segnato dall'inchiesta mensa dei poveri che a maggio ha scosso la politica cittadina, il sindaco chiarisce che non ci saranno ulteriori rimpasti di giunta e che gli assessori attualmente in carica continueranno a lavorare per la città. In termini di bilancio, Cassani afferma abbiamo realizzato il 68% del programma presentato in campagna elettorale, dalla rimessa in sesto della piscina di Morigia all'incremento della sicurezza, dal concreto appoggio alle attività commerciali, allo sviluppo del Museo Maga. Ovviamente, molto resta da fare e attraverso il bilancio di previsione, già approvato a dicembre, sono stati stanziati 7 milioni di euro per la città, di cui 1.200.000 euro per la riqualificazione dei parchi cittadini, 500.000 euro per la piazza della stazione, 1.000.000 euro per il nuovo polo culturale al Maga, 1.900.000 euro per le strade e 2.000.000 euro circa per le scuole. Si progetta anche il futuro dell'attuale area occupata dall'ospedale, a due passi dal centro, e che con la realizzazione del presidio unico rimarrà fuori uso. Nonostante le opposizioni ci dessero per morti, per moribondi, il 5 dicembre abbiamo approvato un bilancio non scontato e non banale, con appunto uno stanziamento di 7 milioni di euro, che ci ha reso uno dei primi comuni in Italia ad approvarlo, e probabilmente è una delle volte in cui la città di Gallarate, già il 1. dicembre, ha avuto un bilancio previsionale approvato, quindi sicuramente la voglia di fare tanto c'è, e noi ci mettiamo ogni giorno tanta buona volontà per fare il bene alla nostra città. Gallarate è anche tra una delle città più attrattive, secondo i numeri. Sì, beh, al di là delle impressioni personali che ciascuno può avere, sono numeri, le statistiche dicono che a Gallarate le imprese crescono, che i negozi aumentano, in controtendenza un po' con il trend provinciale delle altre grandi città, e quindi noi siamo consapevoli del fatto che non sia solo merito nostro, però una piccola parte magari di merito ce l'abbiamo anche noi, e le iniziative che stiamo facendo sicuramente inducono le persone a scommettere su Gallarate. Abbiamo introdotto anche col bilancio del 2020 degli sgravi, per chi aprirà delle attività nel centro storico, nei centri di Rioni, e siamo sicuri che questo aiuterà ad aprire anche alcune vetrine, che al momento sono magari quelle saranno abbassate. Tra le ultime notizie che avevano anche fatto molto discutere nell'anno appena concluso, spicca la multa rifilata all'autista di un carro funebre a Travedona Monate durante i funerali di un signore, papà di un ragazzo, Davide, che poi aveva voluto far sentire il proprio disagio e la propria protesta anche ai nostri microfoni. A lui risponde l'amministrazione comunale di Travedona Monate attraverso una nota condivisa anche dal comandante della polizia locale Roberto Molla. Visti gli articoli pubblicati su questa spinosa vicenda e le conseguenze nate in tv, sui giornali, sui social, poi proseguite con spiacevoli episodi, scrive l'amministrazione comunale, volendo garantire l'imparzialità e il rispetto delle regole abbiamo ascoltato tutte le parti in campo dai fatti emersi, non abbiamo motivo di dubitare della versione data dal comandante Molla trattandosi di un pubblico ufficiale. La contravvenzione era indirizzata alle pompe funebre e non certo al nostro concittadino. Il fatto spiacevole è che in un momento così delicato esse abbiano coinvolto la famiglia del defunto. Esprimiamo pieno sostegno alla polizia locale e la nostra vicinanza alla famiglia appunto del defunto per la grave perdita di cui stanno soffrendo. Queste le parole da Travedona Monati, un episodio che come ricorderete ha fatto molto molto discutere. Adesso invece cambiamo tema e andiamo a parlare di amici cani, amici a quattro zampe che spesso entrano e allargano le famiglie di cui diventano componenti. Ma come reagire a questo nuovo arrivo? Certo piacevole, divertente, affettuoso, ma che non si resume in un giocattolo. È un essere vivente che deve essere curato, deve essere capito e seguito. Ecco loro i consigli di una pedagogista su come introdurre in famiglia un cagnolino e soprattutto accompagnarne la gestione e la cura da parte dei bambini. L'arrivo di un cucciolo è sicuramente un momento molto felice per la vita di un bambino, ma in realtà è anche un momento sestante. È per questo che i protagonisti dell'arrivo del cucciolo sono sicuramente i genitori che devono spiegare al bambino fin da subito che arriverà un altro componente della famiglia che è appunto un essere vivente di cui dovrà prendersi cura. E dovranno anche spiegare al figlio che questo cucciolo avrà bisogno di tante cure, quindi inizialmente dovranno dedicarsi per molto tempo a dare l'attenzione che il cucciolo merita. Per questo motivo, e quindi per le attenzioni che i genitori soprattutto nei primi giorni di vita del cucciolo quando arriva a casa, devono appunto far sì che il bambino diventi sempre più partecipe delle azioni quotidiane, perché se no potremmo trovarci ad avere a che fare con bimbi che soffrono di molta gelosia. Quali sono i consigli allora che bisogna dare ai genitori proprio per non creare questa serie di competizioni alle gelosie? Consiglio innanzitutto di portare il piccolo con i suoi genitori all'interno di contesti dove quotidianamente vivono cani per far vedere al bambino come interagire nel modo corretto con il cucciolo e con i cani anche più grandi e far vedere che appunto anche i suoi genitori possono interagire anche con contatti fisici molto forti che poi è un po' questo che genera più generosia nel bambino, oltre che a tutte le attenzioni. Così che appunto quando poi arriverà a casa tutto sarà meno nuovo e quindi più facile da gestire. E poi invece quando siamo a casa bisogna distribuire un po' le attenzioni? Io direi bisogna coinvolgere. Secondo me è la cosa corretta, come quando appunto arriva anche un fratellino. È giusto coinvolgere in tutto e per tutto e quindi coinvolgere il bambino nelle prime passeggiate, nella pratica, nel dare da mangiare. Questo non vuol dire però che il bambino può occuparsene da solo. Torno domani sera in seconda serata alle 23.30, Cineamando, il nostro spazio settimanale è dedicato a chi fa cinema da queste parti, nelle vesti di autori, di registi, di produttori, di impresari, nel caso specifico anche di esperti e di scrittori. L'ospite infatti sarà Mauro Gervasini, critico, giornalista, scrittore, nato proprio nel Varesotto, che ha dedicato un libro al cinema sulle arti marziali. Ne ascoltiamo un passaggio in attesa della puntata di domani sera, particolarmente significativo perché in questo libro trova spazio un importante capitolo su Hong Kong, città di cui tutto il mondo purtroppo parla, viste le drammatiche vicende di grande attualità. Ma oggi sei qui in qualità di autore di cuore e acciaio, libro, che parla di due passioni della tua vita, una è quella per il cinema e una è quella per le arti marziali, dico bene? Le arti marziali al cinema, infatti, dici benissimo. In realtà ci sarebbe una terza passione che è quella per la storia, la storia con la S maiuscola. Ho cercato di coniugare queste tre cose, cercando di fare non un manuale, un dizionario di film sulle arti marziali, anche perché, insomma, tu sei un cinefilo come me, la maggior parte dei film sulle arti marziali non sono esattamente bellissimi, soprattutto quelli americani. E allora ho cercato di invece creare un percorso attraverso il cinema giapponese dei samurai, il cosiddetto chambara, e la produzione di Hong Kong, quindi diciamo da Bruce Lee fino alla generazione 97, che sono i registi che in qualche modo si chiamarono così in onore del passaggio di Hong Kong dalla Gran Bretagna, dal Regno Unito alla Cina. Di quali arti parliamo? Qualcosa hai già citato, però parliamo di karate, di kung fu, di... Allora, beh, io le arti marziali che frequento di più sono l'Aikido, che pratico, e il Kendo che ho praticato e che è un punto di partenza. Però, come dicevo prima, dal punto di vista cinematografico, diciamo che la scintilla, a parte i film di samurai, la scintilla è stata il judo, perché il primo film di Kurosawa Akira, che si intitola Sugata Sanshiro, è un film che racconta, sotto mentite spoglie, la storia di un allievo di Jigoro Kano, che è stato il fondatore del judo. Dico sotto mentite spoglie perché i nomi sono cambiati, ma sono molto riconoscibili. Siamo anche vivendo un periodo di piatto e drammatico su Hong Kong. Potrebbe anche esserci, perché il cinema ci insegna che così succede, una ripresa di determinati generi, addirittura di sottogeneri, ispirati a questa tragedia personale di tanti hongkonghesi. Adesso è presto per dirlo, posso però dire una cosa dal punto di vista politico, che ho rimarcato anche scrivendo questo libro, infatti ne accenno. C'è una rivendicazione linguistica in questo momento molto forte, cioè a Hong Kong non si parla il mandarino, ma si parla il cantonese. E guarda caso queste produzioni, sono delle produzioni quasi tutte in cantonese, qualche volta con i sottotitoli in mandarino, perché poi vanno nelle Chinatown, in giro per il mondo dove è la lingua più parlata, però questa rivendicazione della lingua, cioè il voler dire, nonostante Pechino noi parliamo la nostra lingua, ha ovviamente un significato politico evidente. A tutti buonasera dal Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori. Domani soleggiato con passaggi nuvolosi sulla fascia alpina. Temperature in lieve aumento, nebbie sulla pianura all'alba. Dopo le sigle, la pagina sportiva che vi anticiperà la puntata odierna di Varese Academy. Tra un attimo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS